Bella ragazzi, siamo Igramas e siamo tornati qui anche oggi con un nuovo video Ormai l'intero è sempre quella, noi siamo sempre noi, voi siete sempre voi e tutti contenti Tutti sono sempre tutti Oggi cosa andremo a fare? Finalmente un ritorno di una cazzo di challenge Oggi sarà la Best Friends Challenge Nessuno penso l'abbia fatta su YouTube, non l'ho vista da nessuna parte Che cazzo stai a fare? Nessuno l'ha mai fatta penso, non l'ho mai vista Vista? Dunque stavamo dicendo Nessuno penso che l'abbia mai fatta Oggi è presa così, scusatelo Non ha preso le pasticche contro la schizofrenia Comunque stavamo dicendo Perché lui stava facendo il coglione Che si tratta di Best Friends Challenge Cosa si tratta? In pratica andremo a prendere una scatola Prendi la scatola, il senso Questa scatola Ci sono qui dentro, ci sono tante pallide Prenderemo una pallina Questa è nata anche la Sadiko Challenger Prenderemo una pallina, sì perché in pratica Cioè abbiamo usato una scatola degli spilli Non so se si vede qua Per metterci i bigliettini dentro Sì, perché ci pesa al culo le valli Esatto, no perché ci pesa al culo poi li metti di dentro Perché altro? Comunque niente sti cazzi Abbiamo messo dei bigliettini e praticamente noi dovremmo pescare un bigliettino A seconda del tema che sarà dovremmo scrivere Che ne so, ci sarà quadra del cuore Vedi, una cazzata Se la pesca lui, io e lui dovremmo scrivere su questi fogli Cosa fare? Cioè, cosa fare? Cosa fare? Scrivere la squadra del cuore? No, poi sarà sulla squadra del cuore Io scriverò la sua e lui scriverà anche lui la sua E poi li gireriamo insieme e vedremo se c'hanno ragione Che cazzo sta a fare? Non so, sto ridendo Eh, vabbè E' chiaro a tutti Sì, Daniel Mi sento tutte le vostre voci Tutti pronti, eh? Tutti avete capito come funziona? Sì, si chiama best friend perché appunto se uno sa le cose sull'altro significa che è best friend BFF, vabbè dai iniziamo perché non ne la faccio più Peschi del primo Sì, ciao Quindi se tu lo peschi io devo scrivere cosa è il tuo, giusto? Ah sì È macchina preferita marca, ma scritti male sto cosa Ok Ma chi sta il pennello mio? Ecco Il tuo pennarello Ah, lo dobbiamo scrivere insieme senza farsi vedere Posso fare il tratto? Guarda io non so sicuro però ci provo Ma che stai a fare? Ti sto prendendo io Dai, scrivi sta macchina Sì, carcola, aspetta È troppo carucci Ma è scritta La sto scrivendo, aspetta Ma ancora? E ti scrivi in grande? No, vabbè c'è Dai, regà Da qua, te lo metti da qua È lui Sì, sei bravo Comunque non è quella la challenge Vabbè, sì Se volete questa challenge La faremo Ok, hai fatto È scritta Mi sa che forse ci ho preso Dai Girate Girate Che hai scritto te? Audi Audi Sì Dai Ho preso, dai Oh, grande Sono al meglio, regà Incredibile Sì, perché ho pensato a te Ti piaceva l'R8 Quindi ho detto Mi facciano tutte le Audi Basta me dare in Audi Io so felice Allora Ho sempre sognato a fare sta cosa Magari non me lo so Fira Cellulare Dai, facile Ah, vabbè Cellulare preferito Aspetta, marca o c'è un modello? Vabbè, la marca Come hai macchine 3, 2, 1 Ci sta Vabbè, io ho messo iPhone Vabbè, io ho messo È la marca Vabbè, nel senso Ho la marca sì, l'iPhone Ma no, ma quello è il modello Della marca Vabbè, comunque c'è sta Gamma, ti ho già vabbè Eppola Ci sta, dai Tutti convinti È facile Eppola No, vabbè, però è giusto Dai Sì, sì È perché volevo disegnare Purtroppo la mela È la carina Tranquilli, verranno tutti Con il suo testo Il fail Aspetta, ce l'ho riprovato Olè Ah, te l'ho staccata In frattempo Sì Tutti i fogli, ovviamente Noi sprechiamo fogli Verranno riciclati Con la raccolta differenziata Perché noi ci teniamo Puttana Ah, no Ma è la preferita Lina Data nascita Ah, mia Devo scrivere, giusto? Sì Vabbè, è facile Grazie Ma che vuol dire Vabbè, per me è facile Io, ragazzi Secondo me Ci ho problemi De spazio Pure io Non mi riesco Perché non si può iniziare A metà foglie E sono un attimo Su e scritte Ah, vabbè Guardate Sicuramente Raga, top Sicuro Vai, che hai scritto? 29 marzo Ok, a posto Perché me ne so Tutti Sì, vabbè 94 magari non c'era bisogno Eh, vabbè Che Vabbè Comunque Comunque Guardate Io C'ho problemi De spazio Guardate Dove sono andato a finire Ma perfatti Un po' di iniziare Quale Non so Non andava Vabbè Dai A posto Vai A me l'onore Ma questo Ti è staccato subito Ah, sì Ma scusa Ma da rinascita L'ho scelto io Perché tu gli iscrivete la mia Ma che c***o Eh, vabbè Dai Questa andrà Favola Io pesco per te E scriviamo la tua Panino McDonald Ok Tanto non lo saprai mai Fidate No Favate l'illusione nell'occhio Non lo conosci? Sì Conosco Ah, ok E comunque Come fanno gli scicce? Non lo so No Vai Allora, mo Favamo muocare le cose fatte bene Quindi peschi te E scriviamo per te Ok Gioco Lo sai che non so manco io Io vado su questo perché Sennò l'altri So troppo mostri Vai Crash Cazzo è vero Crash Bandicoat Però non ho messo FIFA Perché Mamma mia Dai Ma lo so più meglio Lo so più meglio Lo so più meglio Italiano Chi è che lo parla meglio Sicuramente non te Lo so più meglio Allora, mo devo pescare Io con me Questo Grazie Starter Pokémon Almeno Mentre Non so come Non ti entra Ma lo so Io ho scritto malissimo Non mi devi chiedere Andare a capo C'è un foglio Enorme Cioè Vabbè Che hai scritto Germant Comunque sì Però Cioè comunque Spazi zero Eh lo so Io a scuola Andavo bene Perché mi sto Tipo la di eresi Su AC Scusate Ma perché E' lingua di Pokémon Ragazzi A voi l'onore Cazzo ma dovevamo tenere un punteggio Non lo so Cioè comunque Allora tu non hai indovinata Cioè indovinare tutte Ne sa Come sempre No a parte Crash Bandicoat Che è quello però L'indubbiammelo Cioè Però E' molto più difficile Ma che cazzo dici Dai il panino del Mac Su E' 280 grammi Ma vaffanculo Eh non ho capito Ma pure la macchina D'è capitato Eh beh La macchina maresca E' semplice Potevo di Ferrari Lamborghini Cioè Cazzo No vabbè D'è un fuoreggio Speriamo che vi sia piaciuta Questa challenge Della Best friend challenge Quindi abbiamo visto Quanto siamo best friend Noi Siamo i Granas E ci becchiamo Il prossimo video Tra noi è tutto Se questo vi è piaciuto Lasciamoci qui a like E Bella Ah mi raccomando Venite all'evento Che vi abbiamo postato Sulla pagina FB Ciao Che evento abbiamo postato Nessuno Questiamo un evento vinto